Le scuole hanno lavorato tantissimo quest'estate per garantire il rientro in classe di studenti e studentesse se l'idea di qualcuno è chiuderle e lasciare tutti a casa. La risposta è no. La ministra dell'istruzione, Lucia Zolina, lo ribadisce su Facebook dopo le voci di questi giorni che proponevano la chiusura delle scuole come possibilità per frenare l'andamento dei contagi ma al 10 ottobre gli alunni che sono risultati positivi sono circa 5.800 e gli insegnanti poco più di mille segno per la ministra che la scuola non è un luogo dove ci si contagia facilmente la scuola è un luogo sicuro e non chiuderà, ha precisato. Gite e visite scolastiche sono sospese ma non le attività didattiche che si svolgono ordinariamente in ambienti diversi da quelli scolastici come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema e musei. Lo specifica il ministero dell'istruzione in una nota inviata alle scuole per rispondere ai quesiti arrivati in merito all'interpretazione e all'applicazione di alcune disposizioni contenute nell'ultimo DPCM. Il blocco di gite e campi scuola non riguarda quindi le attività organizzate all'esterno degli edifici scolastici per prevenire e contenere la diffusione del contagio e favorire il distanziamento fisico. Quattro eventi online per prepararsi a Fiera Didacta, l'appuntamento annuale con l'innovazione didattica in programma a marzo 2021 a Firenze. La due giorni di convegni organizzati per anticipare la Fiera della Scuola si è concentrata sui temi della digitalizzazione, sulla didattica a distanza e sulla riorganizzazione della scuola. L'evento è stato inaugurato da un messaggio della viceministra Anna Scani che ha parlato di integrazione, tecnologia e futuro della scuola. Promuovere l'innovazione attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell'imprenditorialità mettendo in risalto i migliori progetti creativi degli istituti italiani ed europei che possono spaziare dall'economia circolare all'intelligenza artificiale, dai droni all'agricoltura fino all'arte, allo sport e alla musica. Questo è l'obiettivo principale della Kofu School 2020 di Maker Faire Rome realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Le partecipazioni, gratuite, sono aperte fino al 5 novembre rivolte a tutte le scuole superiori di secondo grado e agli istituti scolastici analoghi appartenenti all'Unione Europea. Dalle scuole Istituto Comprensivo Garibaldi di Salemi Nelle aule, tutti con le mascherine trasparenti per permettere ai più piccoli di leggere il labiale. Istituto Europa di Pomigliano d'Arco Per i docenti dell'istituto il rientro è stato più leggero del previsto grazie agli sforzi di tutto il personale. Tra doppi turni e didattica mista, l'obiettivo è il diritto allo studio e la socialità. Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò Grazie all'intervento del Ministero, l'istituto ha acquistato telecamere di sorveglianza per evitare nuovi atti vandalici. Istituto Da Vinci di Karate Brianza La scuola è stata premiata per un progetto contro le fake news realizzato con finanziamenti dell'Unione Europea. Campus per l'orientamento di Parabiago Il Covid non ha fermato l'evento organizzato per guidare gli studenti nella scelta degli istituti superiori. Per tutte le notizie, consultate il sito di regiovani.it Grazie a tutti!